Non è una legge matematica, ma chi governa di solito fatica a mantenere il consenso. La Germania dei Lander fa eccezione. Le elezioni amministrative del Baden-Württemberg e della Renania-Palatinato premiano i presidenti uscenti, rispettivamente in quota verdi, e SPD. Tonfo dei cristiano-democratici della Merkel, che pagano sia le scelte per la gestione della crisi che gli scandali che li hanno coinvolti sulle provvigioni per le mascherine. Per dirla tutta, questa non è una buona serata elettorale per la CDU, commenta il segretario generale del partito. Ogni voto conta, la campagna per le elezioni di settembre sarà dura e noi lotteremo per mantenere la Germania al centro. Nei due Lander, la nuova CDU post-Merkel, presieduta da Armin Laschet, incassa dunque i peggiori risultati della sua storia. Un altro indicatore che dovrebbe preoccupare la CDU andando avanti è che il partito sembra soffrire in un contesto in cui non può appoggiarsi su un candidato popolare. In particolare sembra che arrivino indicazioni dall'opinione pubblica sul fatto che sempre meno persone considerano la CDU come il partito più competente quando si tratta di economia, e questa potrebbe essere una bella sfida in vista del voto di settembre. Fatta la tara al voto amministrativo che poggia sulle specificità regionali e sulla popolarità dei governatori, l'esito del voto sembra avere un impatto significativo anche sul fronte della candidatura alla cancelleria. I sondaggi nazionali segnano una caduta dal 40% dei consensi a poco più del 30% in questi giorni.